Lo Stato italiano ogni anno spende 4 miliardi di euro per alimentare il fenomeno dell'accoglienza. È un fenomeno opaco, poco trasparente. Ci sono bandi, ci sono convenzioni che escono dal campo del controllo. Non è solo Mineo che è la punta dell'iceberg, decine, centinaia. C'è una commissione parlamentare di inchiesta, che Fiano conosce bene, che dovrebbe controllare la rendicontazione di quello che viene speso. Perché nessuno rendicontra? Perché non si sa quanto viene speso, quanto frutta? Ci sono cooperative che fanno utili sulla testa e sulla pelle degli immigrati. Scusi, molti anni, bisogna intervenire. Il governo non solo non è intervenuto, ma è assolutamente complice e connivente.